L'idea di unire le città di Gallarate e Busto può apparire senz'altro una provocazione. Come Associazione I Repubblicani invece abbiamo voluto lanciare questa idea perché possa essere dibattuta con serietà e concretezza. Ci sono elementi negativi, ci sono elementi positivi, auspichiamo che ci sia un dibattito serio, pacato e costruttivo per esaminare i tanti aspetti positivi. Tra questi, senz'altro il fatto di creare la seconda città per dimensioni della Lombardia potrebbe portare effetti positivi. Non si tratta di cancellare le realtà esistenti, neanche la storia e la tradizione. È come a Budapest, che unirono Buda e Pest 200 anni fa e nacque una delle più grandi città, più belle città europee, salvaguardando le identità dei due centri storici e tutelando in questo caso le nostre identità. Vediamo cosa dirà la popolazione e cosa diranno tutti i cittadini.